ciao io sono il salutatore ti chiedo un saluto a tutti i tifosi della roma e a tutti i tuoi supporter che ti seguono da sempre un saluto a tutti i tifosi della roma vi voglio tantissimo bene e porto sempre voi nel mio cuore un abbraccio anche noi ti portiamo perché io sono della roma e ho una sorpresa per te perché te la meriti la manina del salutatore ecco qua ciao